Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale e sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram e sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. In ogni caso di cronaca si cirano dinamiche intricate dove possono intrecciarsi nodi familiari, a volte indissolubili. Quella che vi racconto oggi è una storia tanto sconvolgente quanto delicata ed enigmatica. Qui l'inconsueto emerge in tutta la sua drammaticità. Questo caso ha inizio nel 1995 quando Stephen Playdle, un ragazzo di 20 anni, si connette a internet, entra in una chat room e conosce un adolescente di 15 anni di nome Alissa. Stephen vive in New York mentre Alissa è di San Antonio, una città del Texas. I due iniziano a chiacchierare online, si scambiano diverse email e arrivano a scriversi delle lettere d'amore. Decidono che è giunto il momento di fare un passo avanti, cioè incontrarsi nella vita reale, così Stephen parte da New York per andare a San Antonio. Anche di persone i due si trovano bene, quindi Stephen va a trovare Alissa abbastanza spesso. I genitori di Alissa non si oppongono alla relazione, nonostante la figlia sia minorenne e Stephen si stia chiaramente approfittando di lei. La giovane coppia si frequenta per circa due anni, poi Stephen inizia a esercitare pressione su Alissa affinché lasci la sua vita in Texas e si trasferisca da lui a New York. Lei, cedendo all'innamoramento, alla fine scappa di casa. Ora, siamo onesti. Alissa è una ragazzina che è stata adescata e manipolata da un ragazzo più grande di lei. Sicuramente è convinta dei sentimenti alla base del loro rapporto, ma questo non è amore, o almeno non è vero amore, e il trasferimento lo dimostra presto. A New York Alissa si ritrova isolata, vive dall'altra parte dell'America, non ha più accanto la sua famiglia e non conosce nessuno, eccetto Stephen. Non passa molto tempo prima che la ragazza rimane incinta e il 29 gennaio 1998 dà la luce sua figlia, che decide di chiamare Denise. Alissa ha 17 anni e, sia chiaro, adora follemente la sua bambina, ma questa situazione non è affatto facile per lei. I suoi genitori nemmeno le parlano più, visto che è fuggita da casa. Inoltre Stephen non si comporta affatto da compagno e padre amorevole. Alissa in realtà cerca di dare il meglio a Denise, ma Stephen non contribuisce a creare un clima sereno. Non è dolce, bensì offensivo, sia nei confronti della compagna che della piccola. Stephen non coltiva un legame con sua figlia, non si prende mai cura di lei, raramente la tiene in braccio e addirittura le urla contro costantemente, soprattutto quando la bambina piange. Ma non è finita qui, perché Stephen mette in atto delle toccate che fanno davvero inorredire. È solito pizzicare la pelle della piccola finché vede formarsi un livido. Quando Denise strilla, spesso il padre la chiude in una borsa a frigo, poi se ne va in un'altra stanza per non sentirla. A volte arriva quasi a soffocarla coprendole la bocca con la mano mentre piange. Alissa vuole soccorrere sua figlia, ma ogni volta Stephen interviene fisicamente per impedire che lei l'aiuti. Alissa ora è molto spaventata da Stephen, odia essersi ritrovata in questa situazione, ma lui la minaccia e dice che se mai avesse provato a lasciarlo si sarebbe tolto la vita. Inoltre la malvagità e i difetti di Stephen non si limitano a questo. Alissa ha avuto modo di vedere che lui è anche molto crudele con gli animali, dunque sa che il padre di sua figlia sa essere violento. Come se non bastasse, Stephen non è in grado di trovarsi un lavoro e lascia ad Alissa la responsabilità di crescere la bambina. È lei che deve farsi assumere da qualcuno e mantenere anche lui. La situazione è come se vince davvero problematica, tanto che Alissa si vede costretta a prendere una decisione molto difficile. Ha capito che non può salvare Denise da sola, non ne ha la possibilità, ma desidera che viva una vita migliore. C'è il rischio concreto purtroppo che Stephen in un momento di ira arrivi a uccidere sua figlia. Così, dopo soli otto mesi di vita, Alissa dà in adozione Denise che viene accolta da Anthony Fusco e la moglie Kelly. Lui è un ufficiale del Dipartimento Penitenziario dello Stato di New York. Lei è una segretaria del Dipartimento per l'uso del territorio della città di Dover, sempre nello Stato di New York. Anthony e Kelly, dopo l'adozione, cambiano il nome di Denise in Katie e la crescono insieme alla loro figlia biologica in un trailer park vicino alla Route 22 a Dover, che è una piccola città a circa 80 miglia a nord di New York. Quella di Dover è una comunità tranquilla, formata da famiglie e brave persone. Certo, qualche problema non manca mai, ma nel complesso offre un ambiente sereno dove crescere una bambina. Io credo realmente che Alissa abbia fatto la scelta giusta, anzi, direi che non aveva alternative. La capisco perfettamente in realtà. Temeva il suo compagno, un individuo capace di chiudere la figlia in una borsa a frigo e di impedire alla madre di liberarla. Dunque l'adozione le è parsa come la soluzione migliore per allontanare Denise da questo ambiente pericoloso. Dopo aver dato la piccola inaduzione, lei continua la relazione con Steven. Qualche anno più tardi, nel 2006, si sposano, si trasferiscono da New York a Enrico County, un subborgo di Richmond, in Virginia. I due mettono al mondo la loro seconda figlia nel 2007 e la terza nel 2012. Ma e me, Steven, nel tempo non è affatto migliorato. Anzi, a dirla tutta, continua a peggiorare. Alissa si era soltanto illusa che lui fosse diventato una persona diversa perché non moltrattava le due figlie come faceva con Denise, ma Steven si dimostra ancora violento. È sempre arrabbiato, imprevedibile ed è anche un amante delle armi. Dunque la vita di Alissa e Steven è scandita dall'inaspirsi del carattere di quest'ultimo che è tuttora incapace di tenersi un lavoro per più di quattro giorni consecutivi. È Alissa che svolge diversi impieghi per mantenere la famiglia, per garantirle una sopravvivenza. Come detto, Steven odia gli animali, soprattutto i gatti. Un giorno il gatto di un vicino entra nel loro garage e Alissa vede Steven picchiare quel povero felino a morte, con le sue mani. Poi lo infila in un sacco della spazzatura e lo butta. In un'altra occasione una delle figlie di Steven, che ha tre anni, si fa la pipì addosso mentre Alissa è al lavoro. Il padre non solo la rimproverà aspramente, ma la costringe a entrare nella vasca e a rimanervi per ore con addosso i vestiti tutti bagnati. Quando Alissa finalmente torna a casa, sua figlia è ancora lì, che trema nella vasca da bagno e chiede subito alla madre con voce flebile, mamma, per favore, ora posso uscire? Se le figlie più piccole di Steven se la passano non molto bene, a Dover, Katie Fusco, vive ormai una vita tranquilla, lontano dal caos della famiglia Playdoll. Katie è una ragazza timida e riservata, ma molto felice. Ama moltissimo gli animali, soprattutto i gatti, infatti accoglie, accudisce i randagi ed è vegetariana. Fin da piccola adora disegnare e sogna di diventare un'artista. Katie è una ragazza molto intelligente, sensibile, consapevole di se stessa e delle sue capacità. Alla Dover Heights School viene apprezzata da tutti per i fumetti che disegna, fa parte della squadra di cheerleader, lotta per i diritti delle donne e dopo il diploma si iscrive al college con la prospettiva di intraprendere una carriera nell'ambito della pubblicità digitale. Tuttavia nella vita, a ciel sereno di Katie, c'è un piccolo angolo dove si annidano le ombre. Sebbene lei ami follemente i suoi genitori adottivi, nutre infatti il desiderio di sapere chi sono i suoi genitori biologici. Così, nell'agosto del 2015, usa i social media per cercare di rintracciare Alissa e Steven. Riesce a trovarli e manda loro un messaggio su Facebook. Sia Alissa che Steven sono davvero felici di sentirla e iniziano a comunicare con lei. Le parlano delle loro vite e decidono di incontrarsi. Nel gennaio del 2016, Katie, ormai diciottenne, rivede i suoi genitori biologici e ad agosto decide addirittura di trasferirsi a casa loro. Vuole stare vicina alle sue sorelle più giovani, che ormai hanno 11 e 6 anni. Quindi, Katie stravolge tutti i suoi piani per il futuro, decidendo di non frequentare più il college come previsto. Lascia tutto per trasferirsi in Virginia, una scelta drastica che le cambia la vita. I suoi genitori adottivi, Anthony e Kelly Fusco, sono dispiaciuti e preoccupati per lei. Non approvano che Katie non frequenti il college, ma sono convinti che lei sia abbastanza grande per prendere le sue decisioni. Insomma, vogliono supportarla e non ostacolarla. Le sorelline di Katie sono tanto felici che lei sia con loro, mentre la relazione tra i genitori non va affatto bene. Infatti, a questo punto della nostra ricostruzione, Alissa e Steven fronteggiano grossi problemi coniugali. Dormono in stanze separate, ma Alissa è felice dell'opportunità di riallacciare i rapporti con la sua primogenita. Tuttavia, fin dal primo momento, Katie sviluppa un legame più stretto con suo padre Steven. I due trascorrono tutto il giorno insieme, mentre Alissa lavora come supervisore per T-Mobile, un operatore multinazionale di telefoni a mobile. Alissa inizialmente non ci vede nulla di anomalo nel loro rapporto, dopo tutto Katie è la figlia di Steven. È bello che siano uniti. Tuttavia, Steven, dopo il trasferimento della primogenita, inizia a cambiare sotto alcuni aspetti. Attenzione, non intendo che finalmente si responsabilizzi e che cominci a cercare lavoro per contribuire al mantenimento della famiglia. No, no. Assolutamente. Piuttosto, Steven provvede a curarsi di più esteticamente. Si taglia la barba, fa crescere i capelli e cambia il modo di vestire. Indossa camicette in latte e jeans aderenti. Circa sei settimane dopo il trasferimento di Katie, Alissa nota che suo marito si mette a dormire sul pavimento della stanza della figlia maggiore. E a quel punto, pensa che sia strano. Così si confronta con lei per sapere cosa sta succedendo. E le rivela pure che aveva dovuto darle in adozione a causa degli avanti che Steven esercitava su di lei quando era piccola. Ma Katie non sembra scossa da questa scoperta. A tal proposito, ipotizzo che Steven, prima della rivelazione di Alissa, avesse già cercato di manipolare Katie raccontandole un sacco di frottole su sua madre per ottenere la sua complicità. Magari mentre Alissa era al lavoro, Steven l'ha descritta alla figlia come una persona orribile e bugiarda. Per Katie, entrambi i genitori biologici erano degli estrani. Dunque, perché avrebbe dovuto dare più credito ad Alissa rispetto a Steven? Probabilmente la ragazza ha scelto di credere alla persona con cui ha sviluppato un legame più forte. Alissa, in effetti, con il tempo si convince che Steven abbia fatto il lavaggio del cervello a Katie, che la stia manipolando, esattamente come aveva fatto con lei quando aveva 15 anni, spingendola a scappare di casa per andare a vivere con lui. Così Alissa decide di affrontare Steven e gli chiede perché dorma per terra nella stanza di sua figlia Katie. Steven, in uno scatto di rabbia, urla ad Alissa che non sono affari suoi, poi chiama a sé Katie e i due escono di casa. Nel novembre del 2016, a distanza di pochi mesi dal trasferimento di Katie, Alissa e le due figlie più piccole decidono di trasferirsi altrove. Mentre Alissa chiede il divorzio, Katie decide di restare a casa con suo padre Steven. Dato che Alissa e Steven condividono la custodia delle due figlie più piccole, ogni tanto lei riporta a casa le bambine per qualche giorno, affinché siano con il padre e la sorella maggiore. Questa situazione va avanti per un bel po' e arriviamo alla fine di maggio del 2017. È il 23 maggio quando Alissa decide di sbirciare sul diario segreto della figlia di mezzo, un'azione che la fa sentire male di pagina in pagina. Alissa è confusa e arrabbiata. La ragazzina di 12 anni scrive che suo padre sta dando istruzioni a lei e alla sorellina minore affinché si riferiscono a Katie come se fosse la loro matrigna e non la sorella maggiore. Ma c'è di peggio. Da quanto legge, Katie sarebbe incinta e il bambino lo ha concepito con Steven. Alissa, sconvolta a dir poco, contatta suo ex marito, che ha il coraggio di confermare tutto con molta tranquillità. Ha voluto divorziare in tempi brevi perché intende sposare Katie, che vi ricordo, è sua figlia. Steven riferisce addirittura che i genitori adottivi di Katie sanno tutto, che all'inizio non erano entusiasti di questo risvolto, ma alla fine lo avevano accettato. La chiamata successiva che Alissa effettua è indirizzata alla polizia della contea di Enrico. Il 31 maggio gli agenti avviano l'indagine interrogando le sorelle più giovani di Katie, le quali raccontano che lei e il padre dormono nello stesso letto. Aggiungono che Steven insiste sul fatto che il bambino nel grembo di Katie è suo figlio, quindi le piccoline devono smetterla di considerare Katie come una sorella maggiore. Devono integrare il concetto che lei è la loro matrigna. Allo stesso tempo, però, Steven chiede alle figlie di mantenere il segreto su questa relazione, altrimenti i loro amici le avrebbero prese in giro. Nonostante queste dichiarazioni, non vengono effettuati arresti, ma poco dopo l'inizio delle indagini, Steven e Katie lasciano la Virginia. Si trasferiscono in una casa a Knightdale, nel North Carolina, dove vivono apertamente come una coppia. Il 20 luglio del 2017, due mesi dopo che il divorzio tra Alissa e il marito diventa effettivo, Steven sposa sua figlia Katie. Hanno organizzato una cerimonia romantica sulle sponde del lago Parkton, nel Maryland. Persino i genitori adottivi di Katie hanno partecipato a quelle nozze illegali, perché sì sono illegali. A quanto pare Anthony e Kelly pensano che non ci sia nulla che possano fare per impedire ai due di sposarsi, quindi si sono rassegnati alla decisione di Katie. Anche Grace, la madre di Steven e dunque nonna di Katie, era presente al matrimonio e ora è diventata pure la suocera di sua nipote. Ovviamente siccome Steven è il padre biologico di Katie, due hanno mentito quando hanno presentato la domanda di matrimonio, affermando di non essere imparentati, perché ripeto, è illegale. Il primo settembre del 2017 Katie dà alla luce il suo primo figlio, che chiama Bennet. Questa nuova famiglia dai legami distorti sembra vivere felice in periferia, ma dal 29 novembre la polizia di Enrico comincia a emettere dei mandati di arresto sia per Steven che per Katie. Il 27 gennaio del 2018 entrambi vengono arrestati e accusati di adulterio, incendio e concorso nella delinquenza di un minore. Il piccolo Bennet viene affidato alla custodia della madre di Steven, la di 72enne, Grace. L'avvocato che assiste Steven riferisce ai media che la faccenda è stata ingigantita di smisura. Non sussistono quindi accuse secondo le quali Steven avrebbe esercitato pressioni su Katie affinché iniziassero una relazione o si sposassero. Dopo essere stati arrestati, sia Steven che Katie escono dalla prigione su cauzione, ma è stata emessa un'ordinanza dal tribunale che impedisce loro di vedersi, ovviamente. Quindi, che accade, Katie torna a vivere con i genitori adottivi nello stato di New York, mentre Steven si arrangia in un motel in Virginia, perché gli viene proibito di tornare nel North Carolina. Eppure, il 16 marzo, un giudice della contia di Enrico rievoca questa restrizione, quindi Steven fa ritorno a Cnydale. In quella zona del North Carolina vive anche la sua mamma. E, indovinate un po', in quella zona del North Carolina vive anche la mamma di Steve Grace, alla quale, come sapete, è stata affidata alla custodia di Bennet, che ha compiuto sette mesi. Non sussiste alcun divieto che impedisca a Steve di vedere Bennet. Dunque, non può incontrare Katie, ma suo figlio sì, che poi ha anche Katie e sua figlia, quindi in questo caso è un gran casino. Comunque, l'11 aprile del 2018, intorno alle 19, Steven chiama sua madre per dirle che sta andando a casa sua a prendere Bennet. Informa Grace che lui e il figlio sarebbero andati a Dover per ricongiungersi con Katie e poi allontanarsi insieme. Tuttavia, quella sera, Steven riceve una chiamata da Katie, la quale gli dice che vuole chiudere la relazione. Questa decisione scatena il lato più instabile e aggressivo di Steven, che dopo aver ricevuto la chiamata, porta Bennet in casa propria e compie il gesto più orribile per un padre. Lo uccide. I primi soccorritori dichiareranno di aver trovato il corpo senza vita del piccolo chiuso in un armadio. Dopodiché Steven, armato di pistola, sale in macchina e guida per tutta la notte percorrendo oltre 600 miglia dal North Carolina a Dover. Parcheggia il suo minivan davanti a un negozio di liquori dall'altra parte della strada rispetto alla casa di Anthony e Kelly. E aspetta finché vede Anthony e Katie uscire di casa. È ormai giovedì 12 aprile e il padre adottivo sta accompagnando la figlia a Waterbury, nel Connecticut, dove vive la nonna a cui Katie pulisce la casa un paio di volte a settimana. Steven segue l'automobile di Anthony, quest'ultimo si ferma a un segnare di stop nel comune di New Milford, Connecticut. Allora Steven lo affianca e apre il fuoco. Pochi minuti dopo alcuni testimoni chiamano la polizia riferendo di aver visto un uomo che sparava contro due persone. Sia Katie che Tony riportano ferite multiple d'arma da fuoco al torace e alla testa. Avevano 20 e 56 anni. Dopo l'attacco, intorno alle 8.45, Steven chiama sua madre e le confessa di aver ucciso il piccolo Bennett, Katie, e suo padre adottivo Anthony. Grace, stravolta, chiama il 911. All'interno della macchina la polizia rinviene i cadaveri delle vittime. Anche Steven viene trovato senza vita nella sua automobile, oltre il confine di stato a Dover. Si è autoinflitta una ferita d'arma da fuoco. Ormai era noto che Steven aveva sposato sua figlia, ma nessuno lo riteneva capace di commettere degli omicidi. Dopo il tragico risvolto della vicenda, Alyssa decide di uscire allo scoperto per parlare di questo dramma, degli effetti a dir poco traumatici estesi a lei e alle sue figlie. Alyssa rivela che Steven era sempre stato fisicamente e verbalmente violento, ma non aveva mai avuto intimamente delle figlie più piccole, quindi lei mai si sarebbe aspettata che potesse instaurare una relazione incestuosa con la primogenita. A sua discolpa, il procuratore della Contea di Enrico afferma che nessun elemento del passato di Steven poteva suggerire che lui fosse in grado di esplodere scatenando una furia omicida. Quando Steven era stato arrestato, le autorità gli avevano anche sequestrato le armi che lui amava collezionare. Dunque Alyssa presume che sia riuscito a comprarne altre su internet. Inoltre aveva avvertito la polizia, spiegando che Steven era un ottimo falegname. Avrebbe potuto tranquillamente costruire un nascondiglio nella sua casa dove custodire le armi in segreto. Rispecchiava esattamente il profilo di un attentatore di massa. Alyssa inoltre è anche scettica riguardo alla decisione del tribunale di aver affidato il povero Bennet alla nonna Grace, cioè a una parente stretta, alla madre di quest'uomo irresponsabile e pericoloso. Grace non era palesemente in grado di contrastare suo figlio di impedirgli di prendere Bennet con sé, ma magari per una famiglia esterna sarebbe stato meno complicato. Per Alyssa questa terribile strage era evitabile e anche io penso che Bennet dovesse essere affidato almeno temporaneamente a una famiglia adottiva. Trovo che ci sia stato un errore madornale, quello di consentire a Steven, accusato di incesto, di vivere vicino a suo figlio. A mio avviso aggiungo anche, era necessaria una valutazione della salute mentale di Steven prima del suo rilascio dal carcere. D'altro canto penso che anche Alyssa avrebbe potuto intervenire. Se avesse denunciato Steven riferendo gli auguri che esercitava nei confronti di Katie fin da quando era neonata, forse le cose sarebbero andate in modo diverso. O forse no? È chiaro, non possiamo saperlo con certezza, ma un intervento di Alyssa avrebbe contribuito ad allontanare Katie dal padre biologico, riconducendola dai genitori adottivi. L'avvocato di Steven ha affermato in tv che nessuno aveva previsto questa tragedia terribile. Sostiene che se i giudici, il pubblico ministero o gli avvocati difensori avessero avuto la minima idea delle potenzialità criminali di Steven, la prospettiva del rilascio su cauzione non si sarebbe mai e poi mai delineata. Io credo al fatto che nessuno lo ritenesse capace di azioni simili e che soltanto con il seno di poi si possono fare certe riflessioni. Steven nutriva dei sentimenti profondi ma morbosi per Katie, l'ha soggettata a un controllo tossico e malsano. Probabilmente era molto possessivo con lei e al pensiero di perderla si è sentito svuotato di tutto. Così quando Katie gli ha comunicato la sua decisione di lasciarlo divorziare, Steven ha avvertito che la propria vita non valeva più nulla e si è vendicato meschinamente. Se lui doveva rinunciare alla sua famiglia composta da Katie e dal piccolo Bennett allora nessuno li avrebbe avuti per sé. A mio parere questo caso è davvero tanto inquietante, ma tanto tanto. Si è concluso con un triplo omicidio e in suicidio e ha sollevato una teoria di difficile discussione, quella dell'attrazione intima genetica che si sviluppa tra parenti di sangue che si incontrano o si avvicinano per la prima volta ad adulti. È raro che accada ma purtroppo a volte è successo. Questa vicenda è indubbiamente triste e sono certa che Katie sia stata manipolata sottoposta a un lavaggio del cervello da parte di Steven, un soggetto predatore che aveva già manovrato Alyssa quando lei aveva 15 anni. Inoltre la notevole differenza di età ha sottoposto automaticamente Katie a una dinamica di potere insana. Steven era suo padre ma era diventato anche suo marito. Ok ho finito di parlare di questo caso che trovo davvero assurdo e inquietante, non so neanche bene cosa dire però, però c'è una cosa che mi ha dato molto molto fastidio. I genitori adottivi di Katie al posto di andare al suo matrimonio avrebbero dovuto fare qualcosa. Mi dispiace, mi dispiace, non si può pensare che una ragazza di 18 anni possa ormai prendere le sue decisioni in autonomia, specie se sono delle decisioni così folli, folli. Non si può fare una cosa del genere, non si può che la propria figlia sposi tranquillamente senza alcun problema suo padre. Per come è riuscita Katie a fare le cose sembrava che non avesse nessuno accanto e invece qualcuno accanto aveva e in teoria i suoi genitori adottivi le volevano bene, anzi sono certa che le volessero bene, ma non si può dare così tanta libertà a una ragazza così giovane che non sa ancora niente del mondo, della vita e che prende delle decisioni così sconvenienti sia per quanto riguarda la morale, ok, ma anche per quanto riguarda il futuro. Katie doveva andare al college, doveva studiare, era una ragazza intelligente, brillante, piena di interessi, piena di passioni, è così triste, così triste che tutto ciò sia finito così. Purtroppo temo che sia finita così proprio perché gliel'hanno permesso, perché io sono certa che questo matrimonio non era da fa, non si era da fa proprio zero, no, dovevano evitare, lasciare stare, prendere Katie, caricarsela in spalla, andare dall'altra parte dell'America, ma non lasciarle fare una cosa del genere. Io penso questo. Fatemi sapere quale è la vostra opinione, ovviamente scrivetemi quello che volete qui nei commenti e io nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video, mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!